Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial su Tableau Oggi vedremo una breve introduzione ai calcoli Apriamo come al solito il nostro sample superstore Europa e creiamo una semplice visualizzazione inserendo il profitto e la gerarchia del prodotto Poi ribaltiamo gli assi e apriamo la gerarchia di qualche livello I calcoli in Tableau sono molto simili ai calcoli di Excel Se noi clicchiamo in un qualsiasi punto bianco della barra dei dati con il tasto a destra abbiamo Create Calculated Field e questa è la finestra in cui possiamo inserire il calcolo Come vedete bisognerà inserire delle funzioni che sono suddivise qui nella parte di destra In base alla tipologia, numero, stringa, data, conversione, logiche aggregate Possiamo cliccare su questa freccettina per mostrare o meno il pannello E possiamo ad esempio fare un calcolo che chiameremo Profittabilità Un semplice calcolo logico If Come vedete quando noi iniziamo a scrivere qualcosa Esce l'autocompletamento che ci permette di selezionare con le frecce della tastiera quello che in realtà volevamo scrivere e selezionarlo con il tab If Sum Le variabili possiamo iniziare a scriverle E sceglierle sempre con l'autocompletamento Oppure possiamo anche trascinarle direttamente dalla colonna di sinistra If Sum of Profit Maggiore di 0 Come potete vedere Mentre noi scriviamo la formula Tableau ci fa un controllo Ad esempio adesso la formula è incompleta Quindi se noi clicchiamo ci dice Guarda che io mi aspetto un then dopo l'if If Sum of Profit maggiore di 0 Then Positivo Lo mettiamo Lo mettiamo tra virgolette perché deve essere Un campo, una scritta, una sorta di etichetta Else Negativo Se andiamo a vedere cosa dice Guarda che alla fine mi aspetto un end Aggiungiamo anche l'end Ed ecco che il calcolo è valido Clicchiamo su ok E vediamo che qui Nell'elenco di tutti i nostri dati Abbiamo il calcolo che siamo andati a creare La differenza tra i calcoli e i dati che invece sono già presenti nella fonte dei nostri dati Si nota perché abbiamo prima un uguale Quindi questo Profitabilità è un calcolo che abbiamo fatto noi Anche questo Profit Ratio È evidentemente un calcolo che era già stato fatto e poi salvato come metadata Se noi clicchiamo su Profitabilità e lo trasciniamo nel colore Vediamo che negativo o positivo ci ha colorato i valori in base al numero Se era positivo o negativo Esistono altri due punti in Tableau in cui si possono effettuare dei calcoli Che sono chiamati calcoli ad hoc, calcoli on the fly E sono la riga e la colonna Se noi clicchiamo due volte vedete si apre un box in cui possiamo scrivere E anche qui il pannellino dei mark Ad esempio iniziamo a scrivere Anche qui come al solito possiamo scrivere con l'autocompletamento o trascinare Scriviamo sum sales Meno sum Questa volta il Profit lo trasciniamo dentro Clicchiamo su ok E vediamo che ci ha eseguito l'operazione E ci ha inserito direttamente questa misura che abbiamo creato Direttamente nel grafico Qual è la differenza? Che non appare qui a sinistra Dove c'è invece l'elenco di tutte le altre dimensioni e misure Questo proprio perché è un calcolo ad hoc on the fly Fatto al volo che mi serve soltanto magari per questa visualizzazione E non per tutte le altre Non ho nessuna necessità di farla apparire qui nella colonna di sinistra E di portarmelo dietro per tutto il resto dell'analisi Se capitasse che pensiamo che un calcolo serva soltanto per una determinata visualizzazione Invece poi ci accorgiamo che può tornarci utile anche per altro Ci basterà trascinarlo Dalle colonne o dalle righe Direttamente qui in colonna Vedete che ci chiederà un nome E da questo momento ce l'avremo qui Tra i nostri dati Potremmo usarlo ovunque Togliamolo Se adesso clicchiamo di nuovo col tasto destro Su un qualsiasi punto bianco della colonna qua dei dati Apriamo di nuovo la finestra con tutte le nostre funzioni Possiamo andare a dare uno sguardo a come sono suddivise e catalogate tutte le nostre funzioni Ad esempio le funzioni numero In cui abbiamo l'elevamento a potenza Il logaritmo Massimo e minimo E se noi clicchiamo su una determinata funzione Vediamo che qua in grassetto Ci dice anche com'è la sintassi di base Quindi per farci capire che cosa dobbiamo scrivere all'interno della funzione Poi abbiamo le stringhe Quindi abbiamo tutte le funzioni che riguardano i testi Possiamo ad esempio andare a estrarre una sottostringa Da una riga di testo Possiamo andare a rimpiazzare dei caratteri Ad esempio proviamo a farla Vogliamo che la sottocategoria sia scritta tutta maiuscolo Possiamo prendere Upper Subcategori Chiamiamolo Subcategori Maiuscolo Pichiamo su ok Vedete che ci viene inserito direttamente nelle dimensioni Perché è un testo E se noi lo inseriamo vedete che adesso Le sottocategorie sono scritte tutte maiuscolo Apriamo di nuovo Apriamo di nuovo il pannellino Abbiamo Conversioni Trasformare dei valori in data, in numeri interi, in stringhe Poi abbiamo quelle logiche If, if null Ne aggregazioni E funzioni che riguardano l'utente Ed infine abbiamo le table calculation Che sono diciamo la seconda grande categoria di calcoli all'interno di Tableau Che possono essere, che sono elencate tutte qui Oppure è possibile utilizzare le quick table calculation Che come già sappiamo Ad esempio se ne prendiamo il profitto Lo aggiungiamo qui Possiamo cliccare con il tasto destro Scegliere il quick table calculation E sceglierne una La grande differenza tra i calcoli normali E le table calculation È che i calcoli normali Come ad esempio la somma delle vendite Meno la somma del profitto È proprio una query Che noi andiamo a chiedere Alla fonte di dati E la fonte di dati Poi ci restituirà il risultato Della query che noi abbiamo qui chiesto All'interno di Tableau Le table calculation Invece sono dei calcoli secondari Che vengono fatti All'interno di Tableau stesso Non viene richiesta nessuna query Alla Alla fonte dei dati E sono tutti calcoli Che riguardano il valore Di una determinata misura Paragonato col valore Che essa stessa assume Nelle celle, righe O colonne Vicine Quindi Le table calculation Sono tutti Calcoli Tipo la La somma cumulativa Che è La somma Di una misura E di tutti i valori Che assume prima o dopo Il rank La classifica Oppure abbiamo Il percentuale del totale Che è sempre Un confronto Tra la misura E i valori Che può assumere All'interno della tabella Come abbiamo visto Possono essere Inserite Direttamente Possono essere Create direttamente Nel pannello Delle funzioni Ad esempio Possiamo fare Un rank Della somma Del profitto Così Giusto A titolo Esemplificativo Oppure Oppure Possiamo Cliccare Col tasto destro Su una Su una misura Inserita nel grafico E scegliere La quick table calculation Sulle quick table calculation Faremo un video Proprio dedicato Altrimenti questo video qui Non finisce più E diciamo che Tutto quello che Bisogna sapere Per iniziare a lavorare Con le formule Adesso lo sappiamo Quindi per fare Un riepilogo Formule Possono essere Inserite Direttamente In righe colonne O nel pannellino Dei mark Formule ad hoc Che non vengono Inserite Nell'elenco Delle nostre variabili A meno che Non ce le trasciniamo noi Calcoli Fatti direttamente Nel pannello Delle Delle formule In cui Tutte le formule Tutte le istruzioni Sono suddivise Per categorie Ed è possibile Inserire Variabili Per trascinamento Oppure Iniziando a scrivere Il nome Di quello Che vogliamo inserire E sfruttando L'autocompletamento Il tutorial È finito Ci vediamo Al prossimo Ciao